Enzo Ferrari, mister in seconda dell'Atletic. Un risultato che non può lasciare soddisfatti. Cosa non ha funzionato oggi? Ciao, buonasera. No, anche noi siamo un po' perplessi. Stavamo parlando prima cosa è successo, cosa non è successo. Ci dispiace perché poi è un risultato che comunque stavamo anche nelle difficoltà portando avanti, poi in un certo momento si è girato un po' tutto. Loro giustamente sono stati bravi a crederci sempre e sono venuti comunque convinti di prendersi il risultato. Noi magari ci mancato un po' anche un po' di convinzioni. Penso poi analizzare la partita adesso è difficile. Andremo a vedere cosa è successo, cosa è successo. Sicuramente abbiamo preso qualche gol in una situazione di palla ferma, quindi magari c'è qualcosa da realizzare e vediamo un po'. Grazie.